Nello spirito di trasparenza e tempestività promesso dal sindaco di Teramo Gianguido d'Alberto sui dati dei contagiati delle scuole, la fotografia che emerge confermerebbe la bontà delle decisioni adottate dall'amministrazione comunale nei giorni scorsi riguardo la chiusura dell'anno Ellucidi e della Zippilli. La fotografia scattata ad oggi dal Comune è la seguente. 38 i casi positivi alla primaria dell'anno Ellucidi su un totale di 299 studenti, 45 ancora in attesa di tampone. 12 positivi alla media Zippilli su 499 studenti con 56 alunni ancora da tamponare. Va molto meglio negli altri istituti e in particolare nelle scuole d'infanzia dove su un totale di 1.300 bambini solo 5 sono i contagi accertati e 14 i tamponi ancora da effettuare. L'assessore comunale all'istruzione Andrea Core a commento dei dati sottolinea come il Comune ormai da settimane va avanti con un monitoraggio puntuale, costante e settimanale di quelli che sono i numeri e quindi le situazioni all'interno di tutti i plessi. Questo per essere tempestivi nel prendere decisioni di concerto con le dirigenti scolastiche e con l'azienda sanitaria. Ci aspettiamo, conclude Core, che lo stesso avvenga anche da altre istituzioni. Regione su tutti perché altrimenti ogni decisione rischia di rincorrere slogan piuttosto che la realtà dei fatti. Mai come in questo momento, in piena emergenza sanitaria, la filiera istituzionale ha il dovere di comunicare con tempestività, chiarezza e schiettezza perché i cittadini abbiano sempre più fiducia in chi li rappresenta.